Benvenuti nella giungla, avventurieri, e benvenuti nel survival game in VR più atteso del 2022. Green Hell VR, un survival puro nel quale, oltre a una profonda modalità storia, dovrai mettere in pratica le tecniche di sopravvivenza più estreme per cercare di prevalere non su zombie o entità paranormali, su uno dei nemici più temuti degli esploratori di tutto il mondo, che cerca di ucciderti in ogni modo il cosiddetto inferno verde. La foresta pluviale amazzonica. In questa recensione ti parlo solo ed esclusivamente della versione Quest 2, profondamente diversa dalla versione PC in arrivo tra qualche tempo, nella quale ho già accumulato oltre 150 ore di gioco, e posso definirmi un esperto grazie alle oltre 3000 ore accumulate nella versione Flat, uscita qualche anno fa. Quindi, avventuriamoci nel cuore della foresta pluviale e scopriamo Green Hell VR Quest Edition. I ragazzi di Incubo hanno sviluppato la trasposizione in VR del capolavoro in Flat, Green Hell, sviluppato da Creepy Jar. Questa collaborazione ha dato origine a ciò che sarebbe dovuto essere il survival in VR per eccellenza, ma che tuttavia, almeno per la versione Quest, necessita di ottimizzazione, e sotto alcuni aspetti ne ha anche un po' deluso. Ma non cominciamo dagli aspetti negativi, tali solo per quei giocatori che hanno già macinato migliaia di ore su questo gioco. Vediamo invece come può risultare agli occhi di un profano. Partendo dall'aspetto grafico, Incubo ha cercato di sfruttare al massimo le limitazioni hardware del Quest 2, tanto da spingerlo quasi al punto di rottura, visto che in alcuni momenti, soprattutto quando gli elementi a schermo sono molti, si verificano evidenti momenti di stuttering, ossia il gioco perde la sua fluidità e procede a piccoli o a volte anche grandi scatti. Il dettaglio dei modelli è basso, le texture sono sgranate e i bordi frastagliati, le curve sono in realtà un susseguirsi di linee rette, le luci ambientali sono totalmente assenti e c'è solo un accenno di ombre, solo per gli elementi più grandi. Nonostante ciò, il primo impatto con Green Hell ruba il fiato e mette il giocatore davanti a uno spettacolo della natura senza precedenti, con alberi svettanti e foresta lussureggiante così fitta che è un occhio poco attento, quasi non nota la ridottissima profondità di campo. Nelle zone aperte invece si verificano continui fenomeni di popping, ossia elementi grafici che compaiono improvvisamente in lontananza dal nulla. Per un fanatico della grafica questo basterebbe a far spegnere il visore, ma Green Hell è molto di più, e pochi minuti dopo ci si trova molto probabilmente già feriti, avvelenati, infettati, morsi, affamati, assetati o addirittura morti. È possibile scegliere tra quattro livelli di sfida durante la creazione della partita, da turista, modalità nella quale non ci sono predatori o nemici, non si avverte la fame, la sete o la stanchezza, non ci si deve preoccupare della sanità mentale o della salute, per arrivare fino al re della giungla, in cui si sopravvive solo se sei un vero esperto. La modalità storia offre un'avventura durante la quale si scopre il perché ti trovi nella giungla, e di certo non è una trama banale, visto che vengono toccati argomenti come l'impatto antropico sul pianeta, il rispetto dei popoli, e per i più sensibili potrebbe anche scapparci la lacrima quando la storia rivela la realtà dei fatti. Tuttavia, la storia è solo un contorno a quello che è il vero modo di giocare Green Hell, la modalità sopravvivenza. Non hai uno scopo da seguire, se non quello di sopravvivere il più a lungo possibile, esplorando la giungla e diventando un esperto. Durante la tua infinita avventura verrai a contatto con animali e piante caratteristiche dell'ambiente della foresta, alcuni innocui, come capibara, papiri e funghi commestibili, alcuni pericolosi e letali, come aracnidi, serpenti velenosi, giganteschi coccodrilli, giaguari e membri di una tribù di cacciatori di teste che ti attaccheranno a vista. La tua sopravvivenza dipende da quanto velocemente imparerai a costruire oggetti e attrezzi utili per poterti procacciare del cibo, difenderti e curarti dai tanti status che possono colpirti, come febbre, veleno, intossicazione alimentare, insonnia e allucinazioni dovute al tuo status mentale. Il crafting in Green Hell VR Quest Edition è stato dolorosamente semplificato, sia rispetto all'enorme e complessa versione flat che alla versione VR su PC. Basta infatti tenere in mano due oggetti che possono essere combinati tra loro, come un bastone e una pietra, tenere premuti i due grilletti e avvicinare i due oggetti per creare un'ascia di pietra, alla quale è possibile inoltre aggiungere successivamente una liana per renderla più resistente. Allo stesso modo è possibile provare tante combinazioni di oggetti scoprendo gradualmente tutti gli oggetti costruibili. Alcuni vengono trovati già pronti e segnati sul tuo taccuino, mostrandoti anche la combinazione di oggetti richiesta per ricrearli. Nel diario vengono segnate anche tutte le piante che raccogli e i loro effetti, note sulle malattie e infezioni da larve o parassiti, caratteristiche degli animali, una mappa e molto altro. Purtroppo la sezione per la creazione delle strutture abitative è praticamente assente. Non è possibile infatti costruire i telai sui quali puoi costruire muri o soffitti, non è possibile raccogliere il fango per creare strutture più resistenti, e moltissime delle cose che possono essere fatte nella versione Flat, nella Quest Edition, sono state eliminate, penalizzando pesantemente le tantissime possibilità di vivere al meglio questo gioco. Un vero peccato. Come è stato per la versione PC però, è possibile che molte possibilità vengono aggiunte con dei DLC futuri, come probabilmente sarà per la modalità multiplayer cooperativa. Ah e ricorda di tenere continuamente sotto controllo il tuo orologio. Ti indica il livello di macro, come proteine, carboidrati, grassi e idratazione, status della salute, oltre che funzionare da bussola e datario. Osserva spesso anche le tue braccia, poiché si attaccheranno sanguisuga, che faranno scendere gradualmente la tua salute mentale, e potresti trovare anche ferite da medicare immediatamente, prima che si infettino, e, lo so, non sono tua madre. Ma lava le mani prima di mangiare. Se sei alla tua prima esperienza in Green Hell, la Quest Edition è forse la migliore che potrai fare finora, e se ti piace il genere, preparati a perderti ore e ore nell'immensità della foresta pluviale, e a mettere a dura prova le tue abilità. Se, come me, sei un veterano di questo gioco e del genere, Green Hell VR Quest Edition è un'esperienza molto limitata rispetto a quella a cui siamo stati abituati. Dimenticati di costruire quegli enormi accampamenti partendo dal nulla, modificando i connotati della foresta intorno a te. Dimentica quelle vaste zone che si estendono a perdita d'occhio, e preparati invece a delle piccole e ristrette aree isolate, collegate l'una all'altra da caricamenti. E se conosci la foresta di Green Hell della versione PC come le tue tasche, non potrai fare affidamento alla tua memoria, perché nella versione Quest è stata completamente ridisposta. Ciò che ho trovato più deludente è la scelta di eliminare tutti quegli elementi che su PC mi spingevano a passare giorni interi, per recuperare le risorse per creare strutture imponenti, oggetti sempre più resistenti, come quelli in metallo usando la fornace e il forno, e per livellare l'albero delle abilità di sopravvivenza, cosa che nella versione Quest manca totalmente. Green Hell VR Quest Edition è un bel gioco? Sì, se ti cimenti per la prima volta in un gioco del genere in VR, che resta comunque il migliore su Quest 2 finora. Preparati però a un grosso downgrade grafico e tecnico, a un'enorme riduzione delle possibilità e libertà d'azione, e a un gameplay più incentrato sull'esplorazione continua, più che al crafting e alla costruzione. Elementi che hanno reso la versione Flat il successo che tutti conosciamo, e che speravamo di ritrovare in VR. Non mi resta che continuare a sperare nella versione VR su PC. In ogni caso, ottimo lavoro in cuvo, e grazie ancora una volta Creepy Jar. Grazie a tutti. Grazie a tutti.